ah ma guarda che bella giornatina che avemo beccato pure oggi cupa, uggiosa, abbastanza fredda col vento che te dai la faccia al punto giusto, una bomba dai, dobbiamo pure sbrigarsi che ora arriva a piove Roma 3 qua, ci siamo telecamera sul cassonetto, via Le Marconi 446 questo mi sembra che è il dipartimento di scienze mi sembra, c'è scritto grosso così Roma 3, come abbiamo detto nell'episodio di Ostenze è dislocata un po' ovunque hanno un manager evidentemente con i contro Cogliones perché sotto a via da Vasca Navale hanno fatto un dormitorio uno studentato come si chiama, immenso, tutto super nuovo, tecnologico cioè quando uno ci sa fa che investi è un impero Roma 3 abbiamo fatto stienze l'altra volta voglio fare questa qua sopra De Marconi perché comunque è proprio un pezzo De Marconi che è interessante e secondo me quindi è da fare perché mi hanno detto, mi hanno detto che lì all'angolo c'è una frutteria che fa i panini quindi è da fare mo ci stanno delle cose chiuse perché ancora stiamo a marzo, a metà marzo però tipo lì di fronte c'è una gelateria so che è buona, che però è chiusa però mi piace questo format delle università perché comunque sia, vediamo un attimino la quotidianità di uno studente universitario nelle proprie facoltà per me è fighissimo perché io non arrivo già con gli indirizzi di posti a visitare cioè mi guardo intorno e capisco quello che c'è mo a parte la dritta che mi hanno dato dalla frutteria e poi è comunque un modo pure per scoprire sempre nuovi posti che magari non si riescono a scoprire per esempio oggi io vado a una dritta che è un ristorante orientale cinese che sta più avanti lì e mo ve lo faccio vedere dove io vado è il level up della cucina orientale quando vuoi mangiare bene quel tipo di cucina non è che ci stanno molti posti a Roma, a Milano molti di più c'è più la cultura ovviamente a Milano della cucina orientale qua a Roma male male però ci stanno questi due tre posti dove si mangia veramente bene e uno è questo quindi il dipartimento è questo via Le Marconi è questa e proprio la gelateria che è chiusa sta proprio lì di fronte vedete? eccola lì che però purtroppo è chiusa c'è aspettiamo l'ambulanza c'è credo c'è super nuovo di nuova apertura perché io non me lo ricordo o almeno non me lo ricordo con quella insegna pizzeria, pasticceria, cornetteria, cocktail, sala da tè bibba, barra H24 c'è tutto, fa tutto andiamoci a fare colazione si apriamo un caffè e qualcosa via Le Marconi 471, 61 bar nuovo, ristrutturatissimo tutto moderno c'è di tutto c'è la parte col bar la gastronomia la pasticceria poi c'è l'altra sala pure i ghi di panetti il cocktail bar hanno speso un sacco di sordi proprio i fantasordi tutto di laboratorio tutto tutto però magari cioè comunque se la fanno arrivare ma vabbè ho speso 4,40 euro per un caffè un maritozzo con la panna che costa 2 euro e mezzo e un cornetto semplice mi dispiace perché li ho visti dopo c'erano i tramezzini da paura infatti costavano tipo 3 euro e mezzo ma erano tramezzini a vederli e quindi per scontato che siano buoni perché erano belli gonfi a meno che veramente non ci erano messi alla dietro ma erano talmente secondo me fatti bene che erano gonfi pure dietro ed erano degli ottimi tramezzini ottimi tramezzini ho rosicato una cifra infatti peccato però io sono entrato con il cioè con l'intesta faccio colazione e quindi io sono andato subito in cassa per il dolce il caffè il dolce cornetto questo cornetto è surgelato credo dopo è scontato e riscaldato al fornetto infatti è pastoso mollicoso commoso è un cornetto insufficiente secondo me il caffè era un pelino bruciato ma cazzo la panna c'è la pelina che è un po' sporcato però è impacchettato bene confezionato bene mi sembra ben cotto la panna è come mi piace a me non troppo dolce e l'impasto del maritozzo non è male non ti si rigirano gli occhi non è fantasmagorico però è un discreto maritozzo voto allora per il servizio che danno che c'è anche il tabacchi per stare davanti all'università se scegliete bene secondo me cosa prendere perché hanno di tutto hanno c'è pure le torte biscotti secchi la pasticceria la gastronomia c'erano pure i pomodori coriso che a vederli non mi sembravano manco malissimo quindi io la sufficienza piena gliela do anzi gliela do sei e mezzo sei e mezzo bisogna ovviamente entrarci e saper scegliere però diciamo che comunque è un è un punto di ristoro più che decoroso laggiù c'è Viale Marconi qui c'è questo parchetto di mezzo siamo proprio a Largo Enea Bortolotti quindi siamo dall'altra parte di Viale Marconi rispetto alla facoltà mentre la gelateria che vi ho inquadrato prima so che è buona perché me l'hanno detto ma non ci ho mai preso il gelato qui proprio all'inizio di Viale Efeso c'è quest'altra gelateria qua che invece io ho provato nella vita me ce so mangiato il cuore gelato più di una volta me ce portava me ce portava Erika e buona buona questa è una gelateria da 8 o meno per i miei ricordi poi l'ultimo gelato qua me ce lo so ho mangiato due anni fa abbiamo fatto il giro del parchetto arrestiamo quindi su Viale Marconi quello che voglio provare perché lì devi attraversare la strada dalla facoltà per andare al bar dove siamo andati adesso che ha tutto ma sullo stesso lato invece c'è sia il tabaccaio che un altro bar la vecchia bottega quindi a questo punto visto che anche se sono due esercizi diversi i servizi sono gli stessi quindi penso bar gastronomia eccetera proviamo anche qui e qua siamo su Viale Marconi 600 circa 596 la bottega credo cioè preferamente magari doveva una copia dei chiavi e dall'altra parte ecco qua che vi volevo dire vedete lì Sinosteria Viale Marconi 586 OS ce leggo bene quella lì ragazzi quello è il ristorante cinese orientale che vi consiglio ve lo consiglio proprio quello per me è un ristorante da 8 e mezzo 9 meno andateci a mangiare perché oltre a mangiare bene il proprietario ha anche un occhio di riguardo sulla lista dei vini quindi mangiate bene e trovate anche da bere bene allora ve la voglio visto che ci sono passato avanti ve la riprendo bene Sinosteria Viale Marconi 586 beh 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 allora tra i due bar io fossi uno studente universitario qua di zona opterei proprio a questo qua perché il caffè è un buon caffè una piccola gastronomia ho visto c'erano patate gratinate i peperoni a rosto acicola di passata il petto dei polli tutto cotto cotto no non ho preso niente ho preso un altro dolce sempre per rimanere in tema colazioni ma la roba che era lì da mangiare era roba cotta con con un minimo di passione e di cura con la voglia di cucinare cose buone ho preso un cornetto che che non fanno loro ovviamente gli portano ma non è surgelato i cornetti non erano le cose non erano surgelate sono cornetti freschi e dall'aspetto anche insomma decorosi ben cotti eh sono preso questo danese con con le gocce di cioccolato ed è un buon cornetto a differenza dell'altro bar mi sono mangiato un cornetto che non era buono ma esatto si cornetto per niente prezzi in linea perché ho preso un caffè ed un cornetto 2 euro e 20 e via sempre sullo stesso marciapiede quindi all'angolo qui tra via corrado segre e via le marconi quindi via le marconi 5 7 6 ci sta questa frutteria che dicono fa i panini un attimo fa era presa d'assalto ho pure aspettato la gente che uscita da fare grande franchino cia franchino pieter panino broccoletti e sarsiccia panino broccoletti e sarsiccia panino broccoletti e sarsiccia preso d'assalto infatti d'assalto io stavo dentro aspettare panino e i ragazzi a rotta de collo perché poi qua c'è sta pure ingegneria no a rotta de collo adesso lo meritano perché ci stanno tutti i panini già fatti incellofanati provola formaggi insomma di tutto c'è pure tutto sul frigo in baschettate le paste i risi i couscous i farri quindi un sacco di roba altrimenti dietro stanno cucinino i pentoloni e fanno proprio un minimo decucinato perché come lo fa il panino oggi ci puoi scegliere tra salsicce e pollo e li puoi accostare con l'abbinamento broccoletti patate guarda salsicce e broccoletti 2 euro e 50 i panini costano 2 euro e 50 quindi praticamente per tutti gli studenti che se vanno mangiando panino al volo e spenne poco perché ci stanno pochi sordi loro ti danno ti offrono questa ciabattina classica questa tartarughina presa credo da un forno e ti sbattono dentro una salsiccia e i broccoletti ripassati come in questo caso li hanno levato un po' de molliga buono i broccoletti sono cucinati ad arte nulla da dire sono molto buoni il pane è fresco e friabile il broccoletto è cucinato bene la salsiccia è una salsiccia decorosa questo per due euro e mezzo è totale questo per due euro e mezzo è totale ovviamente poi la salsiccia rispetto alle dimensioni del pane è piccola è più piccola quindi potrebbe risultare un po' scarico ma poi te lo gonfiano dei broccoletti e comunque per due euro e mezzo che vuoi più di questo ma anzi ma ci guadagnano è buonissimo ma io voglio Roma così tu fai una cosa del genere al centro hai vinto mani bassi sostanza regà vuoi fazzoletti capire tre strappi scottex ma sì ma di che stiamo a parlare per rapporto qualità prezzo eccetera voto 9 meno 9 meno fortunatissimi che sta qua ma tutti i giorni ma tutti i giorni non lo riprendo però c'è sta ingegneria da ingegneria che mi hai detto che quello all'angolo la frutteria io ho mangiato un panino broccoli e salsiccia da paura a te non ti è piaciuto dipende dalla giornata e dipende dal panino perché ho preso il panino solo con potoletta e maionese pollo e maionese e maionese mi hanno dato dentro una bustina piccola ah ti hanno dato la maionese ti hai mettita la te però c'è pure di una cosa per 2,50 euro allora mi stai dicendo così un po' ti credo perché io ho visto quello che mi sono maniato io era da 8,5 o 9 il panino broccoletta e salsiccia però te posso credere rimoduliamo il voto però dipende da come è io pensavo danno 8 a 2,50 euro ma che pretendi a 2,50 euro quando era 2 anni fa 3 anni fa 2 anni fa 3 anni fa spingevate più e poi ha visto che venneva 10 miliardi dei panini come tutti allora rimoduliamo il voto 8 8 8 ci sta 8 anche voi prendete i panini qua 8 ci può sta 8 le posso riprendere che ha sì allora qua sono stato fermato da tutti loro che mi stanno stravolgendo il video mi stanno a dire questo fa i panini eccetera così e così però da universitario le cose che sono da provare quindi è allora la vecchia bottega è molto buona quella dove ho fatto colazione e tu mi stai a dire che mi consigliere prendemi lì tramezzini perché li fa a fantasia cioè so boi è lui che diceva a fantasia anche i panini pure no soprattutto la pizza farcita e i panini ok pizza farcita e panini la pizza farcita merita soprattutto quindi voi quindi voi quello che ti mettono nel panino l'affettato te lo fanno fresco te lo fanno fresco ce l'hanno proprio là allora voi esatto quindi dove andate la frutteria questa qua all'angolo c'è andato a piacare il panino ogni tanto no poche volte questo qua quindi non lo faccio allora quindi tutti a bottega andate sinceramente dopo che ho scoperto quel posto sinceramente vado lì perché sono sicuro che mi piace quindi vado là vabbè io sinceramente so fan della frutteria tu sei fan della frutteria quindi questa qua all'angolo non ho preso il panino broccoletto e serseggio gli ho dato 9 però poi è arrivato un altro ragazzo no io una volta ci ho presa la cotoletta che la maionese non era buono per niente boh io ti dico 5 euro primo secondo contorno è l'acqua sopposto non è la qualità vabbè no infatti pure il rapporto qualità prezzo non è la qualità migliore del mondo però qualità prezzo quindi vabbè o frutteria o la bottega lì che allora mocevato il panino a posti vabbè allora grazie quello sta a far video ti ammazzo se lo fai usci prima del video ti butto dentro al cassonetto da spazzatura dammi il telefono allora niente raga tutte le strade ci riportano al secondo bar dove io ho fatto colazione allora bisogna prenderci da mangiare e giudicare allora mangiare che avevo visto che era buono però appunto i ragazzi sono combattuti tra il panino la frutteria e questo qua dopo il ferramenta la vecchia bottega quindi Piale Marconi 596 perché questo è il 4 posso se siamo accomodati dai tanto saldi fuori mi ha portato la roba i ragazzi dentro fanno foto cose quindi ormai era sgamatissima la cosa ho preso come da consiglio un tipo tramezzino riscaldato con la buratina l'insalata l'insalata ho preso un panino vedete tagliato in due con tonno pomodoro e uovo e sto aspettando un pezzo di pizza bianca integrale come pezzi di pizza integrale con la mortadella e ho speso 12 euro e 50 questo è buono questo è molto molto buono vi prendete un pezzo di pizza questa qua per favore perché io tanto non me la mangio ecco è arrivata la pizza integrale piena di mortadella è lei bella dai ammazza la mortadella è buona no ma pure la pizza ragazzi se mi aiutate anche con questo pezzo di panino dai ma lui si te si ho questo ho già mangiato i panini dai è bello è bello è ovvio che se stai scannato va in frutteria se c'hai due spicci due in più vieni qua guarda che qua alla fine è tutto buono però alla fine è qua io mi trovo bene perché ogni giorno che vengo c'è roba diversa e non è che questo io non l'avevo mai visto vedete c'è sempre roba nuova diversa fa tutti gli ingredienti tutti i combinati questo è molto buono gli ha messo st'oliva senti come spigna l'uovo buono oh sono bravi che voto gli aderesti te? che me l'hai consigliato? però che voto gli aderesti? onesto però obiettivo scepro da sentimenti che ti fa mangiare da tre anni cioè io ho bene c'è un bel voto pieno capito? no alto il chilometro qua è vicino e la qualità è buona comunque sinceramente cioè per come si è fatta io preferisco mangiare panini, pizza eccetera e quindi preferisco venire qua piuttosto che andare alla frutteria anche se tutti quelli che ci vanno vabbè la frutteria due ore e mezzo comunque le dà io mi sono mangiato un signor panino con broccoletta tutti quelli che vanno là si trovano bene cioè uguale ah pure la gusta sì al fine si trovano bene però io dovessi proprio preferire qua quasi c'è pure i gelati violet eccetera io mi sono trovato bene il tramezzino il toast è molto buono è fatto bene questo panino è tuo zio prima che la pizza la prende da un fornitore ovviamente che però fa una bella pizza questa integrale di Cristo la pizza bianca la finita la mortadella te la riempie ed è buona questo panino così composto è buonissimo c'è sta sto uovo che spegne ci ha messo dentro un'oliva verde dignitosissima 9 9 9 9 9 meno 9 meno super pieno 9 meno super pieno la vecchia bottega la caffetteria 9 meno super pieno consigliato dai ragazzi qua universitari che però non solo voi insistevate guarda è di Anna Lai io c'ero passato per far colazione invece no no io non lo so perché vabbè cioè noi andammo tra te noi insomma non è che però sì grazie come ti chiami? col panino così col sorso in bocca grazie come ti dici? Emanuele Emanuele dai belli questi interventi no? da parte dei ragazzi così frequentiamo veramente i posti dove vanno loro ecco per esempio io qua l'avevo adocchiato per la colazione invece mi hanno detto no no ci devi pranzare e c'hanno ragione il signore dentro ci mette molta passione quindi il voto è anche in base a quello ragazzi alla passione che ci mette il proprietario nel fare le cose e che manca questo è un discorso già fatto rifatto trito e ritrito che manca proprio la passione quindi quando si trovano persone che ci mettono il sorriso e la felicità nel fare la cosa che poi vendono è tutto un altro passo grazie ragazzi e ragazze che continuate a vedervi i miei video e ci vediamo al prossimo ciao